alessandro orsini l'intellettuale che ci meritiamo fino in fondo ne parliamo come sempre dopo la sigla daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo bentrovati a tutti e tutte qui su daily cogito sempre per combattere un po la zombificazione eppure il mondo ci getta addosso strali di zombies ovunque continuamente e io stamattina abbazzicavo su facebook mannaggia me e sono incappato in un post della pagina di alessandro orsini un post che pubblicizza il suo ultimo libro ovviamente edito dal fatto quotidiano è un post che cerca di magnificare questa pubblicazione in cui orsini allega alla foto del libro una serie di considerazioni considerazioni che io malgrado ho letto ora voglio assolutamente mettere le mani avanti quello che andremo a fare quest'oggi è una lettura commentata approfondita di questo post non c'è nulla che io abbia personalmente contro alessandro orsini ho fatto alcuni video su di lui in realtà un video su di lui che ha suscitato un certo dibattito ma io non ho nulla personalmente contro di lui anzi quasi quasi mi ero dimenticato della sua esistenza nelle ultime settimane perché ho cercato di eliminare tutte le fonti che potessero portarmi notizie di orsini però questo post è stato condiviso da una persona che io seguo su facebook quella persona avrà notizie dal mio avvocato e così mi è ricapitato di fronte alessandro orsini e il post è interessante nel suo essere come vedremo un discreto delirio e ho scelto di leggere con voi questo post perché parla di intellettuali parla di intellettuali e del ruolo dell'intellettuale e visto che questo è un argomento piuttosto presente su daily cogito piuttosto presente nel mio ultimo libro seneca tra gli zombie abbiamo parlato degli intellettuali del loro ruolo dei guru dell'infallibilismo il post di orsini sembra scritto quasi in risposta ad alcune cose che io ho detto in passato perché parla proprio di concetti che qui su daily cogito abbiamo sviscerato svariate volte quindi cerchiamo di leggerlo come si deve e iniziamo a leggerlo allora draghi della specializzazione già con un titolo maiuscoletto ovviamente richiamandosi a draghi e poi c'è la parola specializzazione ed è quello che mi ha subito catturato l'attenzione perché io ho steam della specializzazione ma non voglio bruciare le tappe leggiamo con calma questo post un tempo gli studiosi che avevano una formazione culturale molto ampia erano detti intellettuali oggi sono detti tuttologi da coloro che hanno dedicato tutta la vita a coltivare soltanto un centimetro quadrato del loro campo di studi fermiamoci subito subito allora l'argomento è a me molto caro è la contrapposizione fra l'intellettuale che potremmo definire cosmopolita e lo specialista l'intellettuale specializzato che è un intellettuale perché intellettuale significa chi lavora con materiale dell'intelletto certamente anche il biologo è un intellettuale perché anche la biologia è frutto di intelletto ma potremmo dire che intellettuale è colui che produce un certo sapere un certo discorso in un campo quello che dice orsini è che un tempo l'intellettuale era uno che sapeva tante cose cioè uno con una formazione culturale molto ampia oggi chi ha una formazione culturale molto ampia viene detta tuttologo e già qui c'è un errore madornale non è vero è una cazzata il tuttologo non è chi ha una formazione culturale ampia questo è uno stroman argument quindi un argomento fantoccio nessuno direbbe che è tuttologo chi ha una formazione culturale ampia anzi bisogna avere una formazione culturale ampia perché significa avere più strumenti per interpretare il mondo tuttologo è colui che sulla base di una più o meno ampia formazione culturale si sente in diritto di disquisire intorno a qualsiasi argomento e questo è importante avere una formazione culturale ampia non significa poter disquisire di qualsiasi cosa e quindi già abbiamo la prima fallaccia logica no c'è anche un argomento ad hominem perché qui c'è coloro che hanno dedicato tutta la vita a coltivare soltanto un centimetro quadrato del loro campo di studi come vedremo questo è proprio una fantasia incredibile è il primo attacco alla specializzazione peraltro dimostrando rispetto zero per quelle persone che in realtà specializzandosi permettono agli orsini tutto il mondo di poter disquisire su qualsiasi ambito del sapere ok ma andiamo avanti impossessandosi del linguaggio scientifico con l'aiuto del potere politico gli studiosi meno bravi e talentuosi prendono il sopravvento su quelli più colti e appassionati che si muovono con dimestichezza in molti campi del sapere ora questa è la prima parte del post e vorrei dire una cosa importante vediamo già l'attacco alla specializzazione un attacco anche bello aspro è cioè gli studiosi meno bravi e talentuosi sono quelli che si occupano del loro campo di studi del centimetro quadrato e prendono il posto perché questi riescono ad avere successo perché sono in connubio col potere politico e sono così col potere politico e invece poi c'è l'appassionato quello più colto che si fa prendere il posto da questi qua nonostante quello più colto si muova con dimestichezza in molti campi del sapere ora questa dicotomia è assurda ed è pure anacronistica perché un tempo c'erano più intellettuali cosmopoliti perché era più facile trovare nel seicento un leibniz nel settecento un leibniz o un rousseau o un voltaire rispetto a trovarlo nel 2020 perché il sapere ha progredito a grandi passi e perché oggi riuscire a disquisire in modo competente di tanti argomenti è molto più difficile rispetto al settecento al seicento al cinquecento perché la cultura occidentale ha fatto enormi progressi perché nel seicento tu potevi con una conoscenza enciclopedica saltare fra competenze legate alla fisica e alla filosofia fra la teologia e l'alchimia era quello che faceva leibniz per esempio leibniz era questo modello di intellettuale cosmopolita che aveva una cultura molto ampia che riusciva a produrre discorsi interessanti su ogni campo del sapere però leibniz oggi non può più esserci non perché siamo diventati più stupidi ma perché collettivamente abbiamo fatto avanzare la conoscenza umana in modi impensabili oggi per disquisire di vita umana non si può fare come durante l'epoca dei leibniz e legarsi un po alla bibbia un po ai principi di fisica naturale un po ad aristotelismo e qualche altra discorsetto interessante però quello oggi per esempio devi saperne di genetica di scienza comportamentale di di un sacco di cose molto molto complesse di neuroscienze e quindi è più difficile oggi produrre un discorso sull'uomo sull'umanità è più difficile andare a scavare le essenze l'ontologia semplicemente perché è tutto molto più specializzato ma questo non è una colpa di chi si è specializzato è merito del fatto che il sapere scientifico è avanzato in modo eclatante è questo il motivo per cui ieri c'erano più intellettuali cosmopoliti oggi ce ne sono di meno perché abbiamo reso più complessa la nostra comprensione del mondo e rendendola più complessa abbiamo dovuto per fortuna fornire a molte persone gli strumenti per approfondire in modo efficace quel determinato sapere e aggiungo che anellare oggi all'intellettuale cosmopolita è un puro atto di egotismo perché nessuno ieri ai tempi di Leibniz poteva sapere tutto ancor meno oggi e oggi con questa parcellizzazione dei saperi c'è molta più cooperazione proprio in virtù del fatto che non c'è una persona che può sapere tutto ma tantissimi che compongono un sapere complesso e fra loro cooperano e ci permettono quindi di comprendere meglio alcuni aspetti della vita questo è molto bello e questo post se ne dimentica con questa denuncia ma adesso andiamo avanti continua Orsini l'intellettuale e lo specialista vedete già c'è questa dicotomia che è una falsa dicotomia lo specialista è un intellettuale voglio dire prendete un filosofo che cito spesso come Daniel Dennett Dennett è un filosofo come lo era Leibniz no perché Dennett si occupa di neuroscienze di cervello di rapporto body mind si occupa di linguaggio di natura della coscienza filosofia della mente di cognitivismo e non si occupa invece per ebbè quindi di conseguenza si occupa anche però marginalmente di per esempio bioetica questioni morali certamente oppure un'altra grande filosofa contemporanea Patricia Churchland che si occupa di neurobiologia lei è una neurobiologa filosofa che scrive testi di bioetica inerenti il rapporto fra il cervello il modo in cui siamo costruiti neurologicamente e il diritto quindi la giurisprudenza il comportamento l'etica bellissimo il testo fondamenti i fondamenti morali i fondamenti biologici dell'etica bellissimo testo quindi non sono intellettuali questi sono molto specializzati sono molto più specializzati di quanto lo fosse un Kant un Bergson un Leibniz perché perché vivono in un'epoca di specialismi e grazie a questi specialismi capiamo meglio il mondo non sono intellettuali quindi questa dicotomia intellettuale specialista è una cazzata non lasciatevi convincere da queste stupidaggini perché pura propaganda e scrive l'intellettuale è lo specialista la morale del primo è radicata nella potenza della mente quella del secondo nella sua imbarazzante debolezza ma cosa ma cristo allora no prometto di non incazzarmi però a parte che questa frase è pura fuffa ok certo qualcuno adesso verrà e mi dirà beh ma è un post promozionale per il libro sì va bene però visto che siamo specializzati in linguaggio qui cerchiamo di andare al fondo delle cose perché ci piace essere specializzati allora è fuffa cosa vuol dire che la morale dell'intellettuale è radicata nella potenza della mente non vuol dire niente perché cos'è la potenza della mente prova a definirmi la potenza della mente la potenza di immaginare quindi la potenza di immaginare cose assurde beh allora questo post è il frutto della potenza di una mente molto potente perché è estremamente fantasioso però non vuol dire nulla la potenza della mente è quella di creare cooperazione con altre menti qui c'è proprio vedete come è incredibile però come ci si richiama un pensiero magico orsini è il modello perfetto è l'intellettuale che ci meritiamo in un'italia dove il pensiero magico ormai la fa da padrone ovunque perché il pensiero magico è quello in cui si pensa che la potenza della mente sia qualcosa di dato qualcosa di concreto che l'individuo deve in qualche modo disvelare ecco che esprimo la potenza della mia mente come sparando cazzate sulle scie chimiche sulla guerra in ucraina e sul complotto di vaccini forse non lo so è potenza della mente questa non credo la potenza della mente non è quella di un individuo illuminato che capisce i fenomeni del mondo la potenza della mente è scoprire i propri limiti di intellettuale di persona e capire che per comprendere la complessità di un fenomeno mi serve cooperare con altri cioè qui la potenza della mente è proprio quel pensiero magico che ti dice che la tua mente può no la tua mente non può la tua mente può sforzarsi di creare collegamenti e di comprendere piccole porzioni di realtà ma non perché sia debole non è questa la debolezza della mente è la virtù della mente è la virtù di una cultura di una civiltà che mette da parte l'egotismo io sono quello che deve scoprire io sono quello che capisce io sono l'intellettuale cosmopolita maledizione agli dei per fare spazio a individui che si appassionano alle cose chi ha la biologia chi ha la genetica chi ha il diritto chi ha la bioetica chi ha la filosofia del linguaggio chi ha la politica chi ha la geopolitica chi ha la sociologia chi ha comprendendo i limiti intrinseci di noi poveri esseri umani che non potremo mai capire tutto quello che ci circonda per fortuna perché sennò le nostre menti imploderebbero in una pazzia folle cooperano con altri io sono limitato studio quello che mi interessa e metto a disposizione il mio sapere a chi potrà arricchirlo questa è la potenza della mente questo è lo specialismo che Orsini qui denuncia come pensiero debole non lasciatevi convincere da queste fandonie e andiamo avanti il superiore e l'inferiore si scambiano di posto e un'intera società smarrisce la sua capacità di critica e di previsione nasce così una nuova morale la morale della specializzazione con cui le menti deboli si impongono su quelle forti e la Polonia non confina più con l'Ucraina siamo a una piccola apoteosi allora al di là del fatto di questo nicianesimo proprio decomposto il superiore e l'inferiore un po' come la morale degli schiavi e la morale dei padroni che stai lì e dici vabbè ok non so neanche dove ha copiato questa cosa qua povero Federico Nietzsche scusami se ti ho citato diciamo il superiore e l'inferiore si scambiano di posto e un'intera società smarrisce la sua capacità di critica e di previsione fermiamoci qua che cos'è la capacità di critica? no perché sta cosa ragazzi mi fa incazzare noi viviamo un'epoca in cui il pensiero critico è diventato quella cosa del mondo non mi piace la critico questo non ha un cazzo a che fare col pensiero critico il pensiero critico è proprio ciò che ha prodotto la specializzazione sì perché vedete a un certo punto durante la storia occidentale abbiamo scoperto attenzione storia occidentale non la storia russa la storia occidentale abbiamo scoperto che non si poteva sapere veramente tutto anziché un uomo due uomini tre individui non potevano sapere tutto e quindi abbiamo cominciato a dire ok tu ti occupi di questo tu ti occupi di questo il più possibile in linea con i desideri degli individui questa è la ricerca desidero scoprire qualcosa di più intorno a questa cosa questa cosa molto specifica senza questo non avremmo mai avuto Mendel Mendel ha passato decenni a incrociare piselli e non come lo trovate su un video di Pornhub no piselli piselli per capire la genetica senza lo specialismo Mendel non sarebbe mai emerso avremmo avuto ancora i vari comt che dicevano eh beh tutto tende verso il miglioramento no Mendel specialista altro che filosofi cosmopoliti altro che intellettuali dalla mente potente altro che superiorità intellettuali ma no cosa Mendel che si fa un mazzo così per decenni nel suo conventucolo a incrociare legumi quella è la potenza della mente questo è pensiero critico capire che non possiamo capire tutto l'autocritica è il pensiero critico e Alessandro Orsini gioca sul fatto che invece la gente non vuole fare autocritica e quindi si lega a personaggi che mostrano di poter sapere tutto ecco che cos'è la radice dell'infallibilismo di cui parlo nel mio libro l'infallibilismo è l'idea che quando guardi Mendel ti accorgi che per capire devi fare una faticaccia fottuta e non ci piace a noi non piace fare fatica e quindi Mendel lo guardiamo e diciamo sì vabbè bravo però sti cazzi meglio Orsini che sulla base di non si sa bene che cosa scrivendo un libro per il fatto quotidiano e venendo censurato ovunque censurato in tutte le televisioni censurato per intere decine di minuti in cui parla però censurato facendo così tu puoi capire tutto ah ecco l'infallibile allora sapere capire non ha più a che fare con lo sporcarsi le mani il faticare il bestemmiare dietro dei legumi maledetti senza capire come questi si incrociano o come si evolvono no ha a che fare con il chiacchierare ragazzi sapere a che fare con chiacchierare questo sarebbe il pensiero critico no pensiero critico è capire che il mondo è più complesso di quanto la tua piccola povera mente la mia piccola povera mente la povera piccola mente di tutti noi individui di quest'epoca potrà mai concepire ed è bellissimo è bellissimo perché significa che io potrò dare il mio contributo con l'ingegno con la forza con il coraggio di Mendel e potrei citarne altri mille potrò portare il mio contributo al sapere e il sapere si costruisce collettivamente e questo non è debolezza questa è la forza di una civiltà civiltà che però a quanto pare il nostro professor Orsini non ha mai ben approfondito o forse non vuole capire perché preferisce avere lettori deboli di mente che dicono ah vedi basta chiacchierare per capire tutto ecco e quindi dice poi nasce una nuova morale la morale della specializzazione in cui le menti deboli peraltro con un altro cosa odiosa odiosa ma cos'è sta roba ma cos'è sto le menti deboli si impongono su quelle forti vabbè ok e continua la morale delle menti inferiori quindi menti deboli menti inferiori stabilisce che i professori di sociologia non possono parlare di storia e i professori di filosofia non possono parlare di geopolitica mentre i fisici devono chiudere la bocca sulle guerre come se uno studioso coincidesse con la sua cattedra che è soltanto una casella burocratica fermiamoci anche qui ma chi ha mai detto che un filosofo deve tacere sulla guerra che un fisico deve tacere sulla guerra anzi vi dirò di più a me pare che una buona parte dei problemi che stiamo vivendo sono legati al fatto che i filosofi hanno detto e come cose e sulla guerra e sui vaccini e sulla medicina e sulle pandemie e che abbiamo avuto sociologi che hanno detto e come cose e sulla politica e sull'economia e sui vaccini e quindi mi sembra che siamo in una controtendenza piuttosto forte però al netto di questo a me non pare che nessuno mai abbia detto che se ha una laurea in sociologia o insegni sociologia tu non debba parlare di guerra di geopolitica il punto è che devi sempre rendere adatto il tuo discorso al campo di appartenenza perché sì gli esseri umani si specializzano la specializzazione è uno dei motori dell'evoluzione e senza specializzazione siamo tutti morti siamo tutti ancora nelle caverne e non mi sembra che siamo delle caverne anche se qualcuno vorrebbe che tornassimo lì quindi il punto essenziale da comprendere qui è che nessuno ha mai detto a un filosofo di non parlare di guerra e se qualcuno lo dice vabbè è scemo cioè è scemo uno che dice che tu non puoi parlare di una cosa perché non è quello che hai studiato è scemo ma l'onestà intellettuale è che un filosofo per il fatto di aver letto Heidegger e l'ontologia e Adorno non è che quando parla di guerra o di vaccini deve essere preso come competente quanto il medico quanto l'immunologo e questo è il punto essenziale il punto essenziale è che quell'infallibilismo di cui parlavo prima ci ha spinti a non distinguere più la gerarchia delle nostre opinioni ora io nel mio progetto visto che credo di essere una persona abbastanza umile cioè nel senso io non ho mai pensato di essere arrogante se qualcuno mi vede come arrogante è solo perché sono molto animato quando parlo perché io mi animo in queste cose ok non è io non credo di essere arrogante io ho cambiato idea un sacco di volte e sono disposto a cambiare idea altre mille volte quando qualcuno mi presenta argomenti determinati e convincenti se qualcuno non mi presenta argomenti io non cambio idea perché i miei argomenti ce li ho ma sostengo i miei argomenti nel modo migliore possibile dicevamo il punto essenziale è che c'è una gerarchia nelle nostre opinioni se io mi metto a parlare di vaccini io metto sempre come ho sempre fatto il secondo me secondo quanto ho letto e quando posso porto anche i dati cioè la mia opinione sui vaccini non è competente tanto quanto la mia analisi su un testo di Spinoza allo stesso modo un filosofo in televisione in radio può parlare della guerra però dovrebbe dire ha due possibilità o parla della guerra in senso filosofico e quindi dice sì concetto di guerra storicamente si evolve così 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 cito von Clausewitz Michel Foucault e faccio una lezione di filosofia sul concetto di guerra se però parla della guerra nell'attualità l'onestà intellettuale è che il filosofo prima di lanciare le sue sentenze dica alcune formulette importanti per l'ascoltatore mi sono fatto questa opinione potrei sbagliarmi ma secondo la mia visione secondo la mia prospettiva fino a che non verrò colto in fallo penserò che sono tutte formule che permettono all'ascoltatore di dire eh sì magari questa persona è molto competente in filosofia magari quello che dice sulla guerra sui vaccini è anche giusto però la gerarchia delle sue analisi differisce allo stesso modo un sociologo che parla di geopolitica o di filosofia o di economia dovrebbe avere la capacità di capire che si è specializzato in un campo e in quel campo forse molto molto competente in altri campi non ha lo stesso grado di competenza nessuno dice che se tu sei filosofo non devi parlare di guerra o di vaccino di medicina anche perché ci sono filosofi che sono filosofi della scienza allora certo che possono parlare di medicina perché magari hanno studiato storie della medicina come è capitato anche qui in trasmissione con mi viene in mente Gilberto Corbellini certo che puoi farlo però è grazie alla specializzazione e la specializzazione è figlia del pensiero critico e quindi tutto quello che abbiamo letto finora va rovesciato radicalmente il debole è quello che si vuole tenere l'idea di potersi esprimere su tutto senza essere mai contestato questo è misurarselo in spogliatoio non è pensiero critico andiamo avanti ho perso il filo aspetta che ho perso il segno la morale degli elementi geopolitica eccolo qua il che quindi questa cosa che un filosofo non può parlare se non dice il che va bene al governo Draghi giacché più una mente è in grado di stabilire connessioni attingendo a più campi del sapere più è difficile controllarla questo mi sembra proprio il classico argomento complottista che non ci mettiamo neanche ad analizzare non è un caso che i fanatici della specializzazione del sapere che affollano le televisioni italiane ma cosa siano anche i fanatici sostenitori del governo Draghi da cui dipendono per le loro posizioni di potere nel campo degli studi sulla politica internazionale e non solo uno studioso è un ponte collegato a mille discipline no uno studioso è un'isoletta che si collega a tante altre isolette non è lo studioso ad essere il ponte è la conoscenza a creare ponti e a creare quel reticolato collettivo in cui tutti quanti partecipiamo e questo non significa che uno non debba interessarsi di tante cose io ho una montagna di interessi io sono laureato in filosofia però ho studiato moltissima psicologia la tratto molto sul canale biologia evolutiva è il mio campo di passione più incredibile da arwin e via dicendo cose che forse il professor Orsini sono molto molto avulse anzi no scusi nel senso evidentemente sa qualsiasi cosa quindi no ritiro quello che ho appena detto sono appassionato dallo sport alla letteratura all'arte però poi quando esco dal campo in cui mi muovo con dimestichezza non è che smetto di parlare non siamo mica wittgensteiniani di ciò che non si sa bisogna sempre sapere non è quello il punto è che cerco di far capire al mio interlocutore che io dico questa cosa però questa cosa che dico in questo campo è da prendere un po' più come un'opinione personale certamente se vi ricordate il video che ho fatto su Orsini qualche settimana fa un paio di mesi fa da una persona che ha un rifugiato ucraino dice di sapere lui cosa i bambini ucraini vogliono sarà molto difficile immaginare di doversi limitare nelle proprie opinioni non c'è alcun dubbio su questo però questo post per me è l'ho scelto perché è proprio emblematico è emblematico di quel pensiero magico con cui ho cominciato la trattazione è che ci porta a pensare che la conoscenza sia qualcosa di iniziatico che la conoscenza arrivi da qualche illuminazione universale che la conoscenza sia qualcosa di divino che soltanto delle menti particolarmente pregne di qualche facoltà sovrannaturale può maneggiare ma non è così questi sono i post queste sono le parole che cercano di convincerti che la conoscenza in fin dei conti è una roba che puoi avere senza nessuno sforzo ma non è così lo sforzo collettivo di creare la rete di conoscenze che chiamiamo civiltà è una cosa di cui dovremmo andare orgogliosi la specializzazione avere persone che per tutta la vita si sono occupate di quel bullone quel particolare bullone ha mandato in orbita il James Webb Telescope di cui tutti beneficeremo nei prossimi anni e che ci farà capire meglio l'universo che ci circonda se noi avessimo una società di intellettuali cosmopoliti che si occupano di tutto ma non sono immortali e quindi non hanno il tempo di approfondire così tanto un particolare sapere da poterlo maneggiare in modo veramente straordinario e originale e nuovo se noi fossimo ancora in una società così ma quale James Webb saremo ancora qua appena appena con il telescopio e il telescopio di Galileo è stato costruito da gente che si è specializzata nell'ottica in cose molto particolari quindi già allora c'era il processo di specializzazione senza il quale non ci sarebbe metodo scientifico né progresso scientifico di cosa stiamo parlando non lasciatevi manipolare questa è veramente manipolazione peraltro manipolazione volta poi a vendere un libro quindi tu prendi la più grande conquista della civiltà occidentale la parcellizzazione del sapere volta alla specializzazione che ci ha portato la penicillina ci ha portato ci ha portato alla alla fissione nucleare ci ha portato ci ha portato tutto al volo ci ha portato a tutto quello di cui beneficiamo oggi e la getta nel cestino con questa retorica da strapazzo per vendere un libro è veramente male è veramente male vedete c'è una frase che vorrei vorrei rimarcare coloro che hanno dedicato tutta la vita a coltivare soltanto un centimetro quadrato del loro campo di studi quel centimetro quadrato se guardi alla superficie è un centimetro quadrato la questione è che la specializzazione è uno scavo rimane un centimetro quadrato ma in una vita quel centimetro quadrato verrà scavato talmente a fondo che davvero quello specialista capirà qualcosa che i tutologi del mondo non potrebbero mai capire perché dedicherà la sua esistenza a quella cosa di cui anche il professore Orsini magari beneficerà perché senza quella specializzazione hai voglia ad avere le chemioterapie per curare il cancro e tutte le tecnologie che vengono usate per gli screening per tutto quello di cui beneficiamo da un punto di vista medico ma non solo ma non solo pensate soltanto al diritto all'avanzamento delle scienze giuridiche ragazzi ma di cosa stiamo parlando ecco di nuovo spero che questa disamina non venga presa come un attacco personale Orsini ripeto io non volevo parlare di Orsini volevo parlare di questa cosa qua perché il titolo del video Orsini è l'intellettuale che ci meritiamo è perché questo pensiero espresso in questo post che per me è proprio rivoltante da ogni punto di vista domina il dibattito culturale italiano e dobbiamo starci attenti a queste cose e mi piacerebbe che in risposta a questo daily cogito non ci fosse un'ondata di indignazione di gente che fa beh Orsini che stronzate che scrive no mi piacerebbe che invece raccontassimo la bellezza della specializzazione raccontassimo quanto è straordinario avere persone che dedicano la vita a cose di cui beneficiamo ma che fatichiamo a riconoscere come benefici perché sono talmente particolari talmente parcellizzate talmente distanti dalla nostra quotidianità che sono invisibili e quando ne beneficiamo non ci accorgiamo neanche di quanto queste cose dipendano dalla specializzazione di nuovo l'epoca che viviamo è un'epoca di scontro fra due visioni del mondo questa visione antiscientifica antiempirista magica olistica e che vuole convincerci che si stava meglio quando stava peggio è una visione invece empirica scientifica basata sulla capacità della civiltà umana di cooperare di produrre un sapere che rispetti la complessità del mondo e che ci faccia finalmente dire a tutti noi soprattutto agli intellettuali non posso sapere tutto perché il mondo è molto più vasto molto più complicato rispetto a qualsiasi mio preconcetto a chi si accontenterà degli intellettuali cosmopoliti del 2022 che potranno solo sempre ragionare per preconcetti frasi fatti retoriche stantie ragazzi cosa volete che vi dica mi dispiace per voi vi perdete il gioco del mondo che oggi è bello vedere a tutti gli altri andiamo là fuori e diciamo siamo sopravvissuti perché siamo specializzati capiamo il mondo perché ognuno di noi limitato nella sua vita dà il contributo che può a tutti gli altri altro che marketing per libretti da seconda edizione e questo è tutto quello che volevo dire e io spero che sia stato interessante ascoltare e ovviamente se avete poi delle domande ci sono i commenti qui su youtube e adesso in live stiamo qua a chiacchierare un po' vi ricordo anche ne approfitto che è uscito Logonauti perché possiamo anche specializzarci specializzarci nell'arte del argomentare bene cosa che alcuni personaggi televisivi a quanto pare non sanno fare quindi andate a scoprire Logonauti trovate in descrizione il link grazie a chi entrerà nella crew dei Logonauti lì ci si diverte molto e si imparano cose interessanti buona serata un abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ciao bec 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 Grazie a tutti.